Fare il canestro un'arte, fatti da parte, io penso solo al basket, io gioco solo a Dunkes Fare il canestro un'arte, fatti da parte, io penso solo al basket, io gioco solo a Dunkes Ben trovati ragazzi, solita rubrica un gufo per tutti Anche questa mattina, in vista della nuova giornata, 5 nomi sconsigliati da me Sono molto felice Primo nome, Ben Simmons Si è ripreso ragazzo, è riduce da 3 buone prestazioni Però trasferta indiana sono mai complicatina, i Sixers sono senza difficoltà Le ho viste anche domenica, non mi piace un per niente Secondo nome è un big man, Jokic, vi chiederete perché Jokic Allora è ridice da anche lui da una partita non semplice con Boston Non so, non mi convince il fatto della trasferta Memphis contro un Gasol Comunque costa tantissimo, quindi io impiegare quei crediti per un giocatore su cui non sono convinto non me la sento Per cui sconsiglio anche lui Terzo nome è un altro centro ed è DeAndre Jordan di Dallas Trasferta tostissima a Salt Lake City contro Gobert Dallas molto altalenante Uno sconsigliato, sapete lo metto sempre uno un po' in dubbio così Ed Raymond Green È sconsigliato sia perché è in dubbio Anche perché giocano gli Warriors in casa con Milwaukee L'ultimo nome è un nome che sta deludendo recentemente Credevo avrebbe fatto molto di più visto gli inizi Ed è Aldridge di San Antonio Sta facendo molta fatica anche a rimbalzo Trasferta a Miami Dovrebbe rientrare a Whiteside Non me la sento ancora di rischiarlo Vedrai prima se si riprende Il costo è abbastanza alto Ci vediamo alle 17 come al solito per la live E questi sconsigliati ragazzi A presto Ciao 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 Ciao